Musica Benvenuti al Meteo, queste le previsioni per le prossime ore sulla nostra regione. Condizioni di tempo instabile con cielo nuvoloso e residui piovaschi, venti moderati in mare poco mosso, temperature stazionari, a campo basso, minima 4, massima 10 gradi, iserni a 6,10, a termoli temperature comprese tra 10 e 14 gradi, Boiano 6,10, a Larino minima 6, massima 13 gradi, a Agnone 3,8, a Benafro temperature comprese tra 8 e 11 gradi.